buongiorno pollicione iscrizione campanellina per ricevere gli avvisi e se volete condividere video mi date veramente una grossa mano e vi ringrazio oggi doveva esserci un solo video in cui parlavo della proposta scandalosa dell'ex ministro ignazio la russa ignazio scusate è un problema mia di pronuncia purtroppo ho saputo una cosa che sinceramente non so come dirvelo da fonti interne in oltretutto nostro amico che lavora l'inps un'informazione tra l'altro che l'inps non dà in merito alle lavorazioni non fatte dell' rdc le famose lavorazioni che riguardano chi ha che aveva le decurtazioni ora secondo la nostra fonte che però è abbastanza attendibile perché purtroppo già che ha fatto un paio di verifiche ha chiamato i contact center più di uno perché vabbè sapete come lavora quella gente che gli hanno dato la stessa risposta le lavorazioni delle ricariche non effettuate a causa dei problemi dovuti alla mancata ottimizzazione dei dati e che riguardano le persone che devono subire la decurtazione vengono fatte slittare a metà di aprile quindi no alla fine del mese in totale violazione delle norme che regolano le rdc queste lavorazioni vengono fatte slittare a metà aprile quindi restate senza copertura delle rdc per 45 giorni io non so esattamente come vi sentiate voi io non mi sento assolutamente bene per cui evito di dire quello che penso perché non è giusto in questo momento esplode devo essere razionale e cercare qualcosa da fare contro l'inps se ci sono vie legali per agire contro l'inps rimane il fatto che alle persone più in difficoltà e più bisognose non solo vengono fatte le decurtazioni non solo vengono fatte le decurtazioni ma la ricarica di questo mese invece di esserci comunque entro 30 giorni verrà effettuata dopo 45 giorni dalla ricarica precedente io penso che ci sia un limite alla vergogna mi sono anche stancato di sentire idioti dei contact center che dicono che non si può rifare la domanda perché non è vero mi sono stancato di vedere promesse che vengono sistematicamente infrante in merito all'assegno unico che doveva essere caricato marzo e se andrà bene il primo assegno unico permanente lo prenderete anche questo metà aprile mi sono stancato del fatto che i politici tutti tutti nessuno escluso abbiano totalmente ignorato la situazione delle persone con disabilità totale mentre sono tutti impegnati a fare la voce grossa e il milite glorioso e mi sono anche stufato di canali di informazione che non ne parlano di questo schifo ma preferiscono seguire l'onda delle visual e parlare solo di quello che succede in ucraina mentre qui verso i più deboli si stanno compiendo azioni indecenti quindi ragazzi questa informazione non è ufficiale perché l'inps non ha ritenuto importante come capita troppo spesso di dover informare le persone di questa situazione di di fatto lo fa e non lo dice io non ho più parole mi dispiace buona giornata a tutti ciao